Asienda nata con 30 soci e un dipendente nel 1962. Oggi, 60 anni dopo, di soci ne conta 280 e di dipendenti 570. Questa è la CLAI, cooperativa con doppia mutualità, quella degli allevatori e produttori come era in origine, più una quota di soci lavoratori. In questo fine estate la cooperativa apre le porte alla comunità con tantissimi eventi. Lo stabilimento, il giardino, il paesaggio, visite guidate, musica e sport. La parola chiave è inclusività. E cosa c'è di più ospitale di una porta spalancata? Da questo nasce Porte Aperte CLAI. Giovanni Bettini, presidente della cooperativa, qual è il messaggio che volete lanciare alla comunità? Dopo 29 anni di festa del contadino, perché è questa grande tradizione che sottolinea il radicamento della cooperativa CLAI in questo territorio, ma dopo anche due anni della pandemia. Perciò abbiamo pensato una formula nuova che sapesse interessare e stimolare i nostri riferimenti nei concittadini imolesi e nel territorio dove operiamo a un aspetto che portasse ancora di più all'interno della cooperativa, a conoscere la nostra realtà, perché la conoscenza è la base della fiducia. Tra l'altro in questa occasione avete voluto proprio fare toccare con mano le due perle. Da una parte il giardino di Villa La Babina, che tra un po' visiteremo, e dall'altra il salumificio, che è uno dei cuori pulsanti dell'attività CLAI. Sì, innanzitutto partiamo dal salumificio, dall'attività, dal core business della cooperativa, da questa grande tradizione nella salumeria italiana rappresentata dalla nostra impresa. Perciò veramente un porte aperte allo stabilimento agroalimentare. È un patrimonio di questo territorio. Ci sono cose di cui manteniamo il segreto della casa, però siamo anche piacevolmente stati sorpresi dall'adesione di tantissime persone che hanno colto questo come un'occasione veramente di conoscenza, di approfondimento, perché la fiducia, la stima si crea attraverso questa inclusività, questo rapporto diretto con le persone. Tre generazioni dopo le donne e gli uomini CLAI continuano ad alimentare questa filiera 100% di carne italiana e a migliorare costantemente metodi per arrivare al consumatore. Rudy Magnani è il direttore della produzione di questo bellissimo stabilimento, enorme, bello, super, dove troviamo però i prodotti della tradizione. In particolare qui dove ci troviamo? Qui siamo in una cella di stagionatura, dove abbiamo uno dei nostri prodotti più tipici, il nostro salame contadino, saccato e budello naturale. E' la metà di questo prodotto circa della sua stagionatura. Ecco, tra l'altro qui aggirandoci di celle ne troviamo tante, una fianco all'altro, maturazioni diverse, prodotti diversi. Qui c'è un ciccione enorme ad esempio. Noi produciamo un po' tutti i salumi, in particolare i salami della tradizione italiana. Questo che vedete qui davanti è un prodotto tipico del sud Italia, è un prodotto molto speziato e con questa caratteristica forma a fagiolo, in questo budello naturale di grandi dimensioni. Facciamo un ripasso veloce dei tanti prodotti. Io so che la passita è la regina, ma attorno ci sono, insomma, ruotano altri profumi. Sì, qui siamo in salumificio dove produciamo soprattutto salami e salsicce, in particolare la salsiccia passita è il prodotto principe del nostro territorio, quindi è la nostra produzione di cui siamo più orgogliosi. Poi in azienda abbiamo anche altri stabilimenti, anche in altre zone della regione, ad esempio a Parma abbiamo il nostro prosciutificio, dove facciamo il prosciutto di zuarina. E qui nelle colline tra Romagna e Toscana, a Palazzola del Sena, abbiamo un piccolo caseificio dove facciamo i nostri formaggi. E poi c'è tutto il mondo delle carni, di suino e di bovino in particolare, che vengono vendute poi nelle nostre macellerie. Che senso ha per voi, che lavorate qui con la stessa passione di un tempo, raccontarvi alle persone che vengono? Fa molto piacere perché una cosa di cui vado fiero di questa azienda è che sulle linee di produzione molti delle persone che insaccano il nostro salame, che macinano la carne, sono i soci dell'azienda, quindi i padroni della cooperativa che tutti i giorni insaccano, lavorano le carni, e chiaramente lo fanno con quella attenzione, con quella passione che solo il padrone di casa può fare. Abbiamo questa formula unica, con la nostra forma sociale, parte dei soci sono allevatori, parte sono lavoratori, questo ci permette di controllare le materie prime e controllare le operazioni di lavoro che si fanno quotidianamente. Ed eccola qua, Giulia Cambiuzzi, ufficio controllo qualità. Qui siamo entrati in una sala magica, quella dei guanciali, tra l'altro una novità. Sì, questa è la novità proprio dell'autunno, che è il prodotto che vogliamo presentare nelle macellerie a breve. È un guanciale studiato dalla tradizione appunto da uno dei nostri artigiani che lavora qua dentro da un sacco di anni, era una ricetta che lui faceva già a casa e ha deciso di appunto portarla per noi e verrà presentato fra un paio di settimane a tutti i consumatori che finalmente potranno trovare il guanciale appunto fatto veramente in clai ed è un guanciale che ha due particolarità perché è privo di conservanti, quindi completamente naturale e soprattutto poi fa molta più stagionatura rispetto a quella che fanno gli altri prodotti della concorrenza perché comunque questo sta qua in cella per almeno due o tre mesi per cui avremo appunto un prodotto veramente interessante. Oggi in questa giornata d'incontro fate vedere proprio come nasce uno dei tanti vostri prodotti. È vero, dopo vedremo la presenza appunto di tutte quelle spezie che noi andiamo a utilizzare all'interno dei nostri salami, spezie che vogliamo comprare così tal quali in maniera tale da poterle lavorare nel momento in cui andiamo a produrre il salame. Quindi non preparati ma il pepe in grano che maciniamo e che immettiamo all'interno dell'impasto e il pepe che vediamo appunto anche qua nel guanciale piuttosto che l'alloro che mettiamo sempre qua in questo prodotto ma tanti altri ingredienti che saranno poi esposti e che si vedranno. Ecco, tra l'altro l'innovazione è di casa qui però legandosi sempre alla tradizione. Tra l'altro mi veniva in mente come questo guanciale riporta un'antica ricetta anche il vostro salame che riporta la data di nascita di Clay 1962 è stato riportato in auge da Mastri salumieri che nelle loro cantine lo facevano, ovviamente con tutte quelle che sono le caratteristiche di igiene e salubrità perché credo che questo sia parte del tuo lavoro. Sì, questo è proprio il mio lavoro perché appunto io occupandomi di qualità devo andare a eseguire tutti quelli che sono i controlli dal punto di vista igienico-sanitario per il prodotto che noi andiamo poi a vendere perché è il pilastro neanche fondamentale ma proprio che ci deve essere a prescindere è la sicurezza alimentare nel prodotto che vogliamo vendere e quindi sul prodotto sull'imola 1962 eseguiamo un sacco di controlli e ogni lotto che produciamo viene controllato proprio dall'inizio alla fine del processo. Dai salumi alle carni per un momento di cooking show che diventa scuola di cucina, il tutto con lo staff delle macellerie del contadino. Questa intanto è una lombata di scottona frollata oltre i 30 giorni, è un nuovo prodotto che abbiamo inserito recentemente nelle macellerie del contadino e ci troviamo di fronte a una fiorentina allevata in Italia, tenerissima come andremo a scoprire dopo. Marla ha fatto il taglio appunto nella separazione, nella parte finale del filetto e quindi è qui che andiamo a usare il termine che abbiamo usato prima, fiorentina col filetto, tibon, è questo punto qua. Ora Marla sta facendo un altro taglio ed è quella che va a separare altre due parti di carne. La parte centrale è la parte della fiorentina più magra e questa qui invece è la costata, è la parte più grassa, è la parte che possiamo usare per un'ottima tagliata. Partiamo allora con qualche consiglio, cose da fare e cose da non fare. Ad esempio io so solo una cosa, che non bisogna prendere fuori la fiorentina dal frigo ma bisogna tenerla almeno un paio d'ore perché la temperatura sia quella ambiente diciamo. È una cosa importante perché favoriamo la cosiddetta reazione maillard, ovvero la cristallizzazione dell'esterno della fiorentina quando la andiamo a cuocere. Dopo la cottura lasciamola riposare prima di tagliare, in questo modo i succhi rientreranno nella carne e rimarranno all'interno. Ultima cosa il taglio, cerchiamo sempre come diciamo noi in macelleria andiamo controvena, quindi un taglio più obliquo. Sale, prima o dopo? Ci sono varie scuole di pensiero, questa sera noi lo metteremo al termine della cottura perché vogliamo poter assaporare la carne in purezza. Se vogliamo metterlo prima il mio consiglio è di metterlo almeno mezz'ora prima, in questo modo diamo il tempo al sale di sciogliersi e di penetrare all'interno della carne, insaporirla realmente. Ci tengo a precisare che chiaramente noi ci occuperemo di cottura e spiegheremo tante cose importanti ma se a monte non c'è un allevamento di un certo tipo e se non ci sono degli alimenti che vengono dati agli animali abbiamo un prodotto naturalmente di qualità inferiore. Qui abbiamo veramente il top di gamma. Lei ha un segreto da comunicare per una giusta cottura. Abbiamo parlato di frollatura ma qui riguarda ancora il mondo della macelleria, ma quando si va a cucinare? Sì, è pur vero che dopo tanti studi si parla di insaporimento, quindi le carni durante la frollatura, gli enzimi proteolitici vanno a scindere proprio e la carne diventa veramente tutti gli zuccheri, la carne diventa tenerissima ma diventa profumatissima, quindi questo è uno dei segreti naturalmente non dovuti a noi. Quello invece che noi possiamo fare è quello di avere sempre una carne, mai dal frigorifero passare alla griglia. Un suggerimento potrebbe essere quello invece di asciugare bene la carne prima di andarla a ungere per poterla mettere sulla griglia e poi dopo naturalmente la cottura molto spinta inizialmente per poter poi mandare tutti i succhi verso l'interno. L'ultimo segreto che possiamo, che non è un segreto ma possiamo dare un altro suggerimento, quello di fare riposare la carne prima di metterla sul tagliere per tagliarla, altrimenti avremo una perdita di liquidi importanti che sono poi quelli che ci servono per mantenere la succulenza in bocca. E così si è fatta sera, una piccola pausa, ma restate con noi perché tra pochissimo si alza il sipario su un nuovo giorno, sempre in compagnia di Porti Aperte Clay.